ciao a tutti bentornati nel mio canale questo sarà un video diverso dal solito vi mostrerò cosa ho acquistato dal sito Gamax ed ecco qui la scatola questo è appunto il sito Gamax e questo sito ha una vastissima scelta di smalti semipermanenti per chi fosse allergico come me al nickel quindi adesso vi mostro cosa ho acquistato da questo sito ovviamente non è un video sponsorizzato io ho acquistato con i miei soldini faccio questo video non per sforgiare ovviamente i miei acquisti ma perché in passato ho ricevuto un commento che mi sono legata leggermente al dito in pratica una signora molto carina e educata mi ha detto che ho delle mani orrende grazie signora grazie per il tuo commento e magari non sa che io sono allergica appunto al nickel e ovviamente il nickel è all'interno di tanti 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 prodotti e anche il cibo perché il mio principalmente è anche alimentare quindi non posso mangiare determinati alimenti che contengono appunto nickel e quindi siccome alcune persone non lo sanno oppure non sono a conoscenza perché non tocca loro e quindi non gli frega nulla giudicano senza sapere quindi finalmente grazie a fabbiola che ringrazio ho trovato questo questo sito cioè gamax che ha appunto i smalti semi permanenti free nickel allora vi mostro i prodotti che ho scelto allora questo intanto è la fattura ovviamente con tutti i prodottini e tra l'altro c'erano anche delle promozioni sul sito quindi vi consiglio di andare a vedere poi c'è la cartolina con scritto appunto scriviti anche tu al gruppo e già mi sono iscritta e poi c'è anche un pensierino carinissimo io già l'ho visto ovviamente è una shop bag molto molto carina con il fucsia grigio e bianco davvero carinissima adesso non c'entra nell'inquadratura ma grazie al sito per il pensierino è davvero molto molto gradito poi ovviamente c'erano questi cosini per per tenere tutto ben coperto ovviamente la spedizione è stata velocissima in un giorno mi è arrivato il pacchettino poi ho preso allora le lime ne ho prese due e consigliate appunto quella 180 per andare ovviamente a limare leggermente lo strato appunto del superficiale dell'unghia per poter poi dopo andare a fare i vari passaggi per il semi permanente e aspettate che tolgo la scatola che è ingobbrante ecco qui allora vi mostro per prima questo allora ho preso il nail cleaner cleaner vabbè è lo sgrassatore per unghie in pratica tra uno strato e l'altro con il semi permanente non so se l'avete mai fatto si crea uno strato un po' appiccicaticcio di firme e bisogna appunto sgrassarlo e bisogna appunto sgrassarlo con questo e poi ho preso ovviamente anche quello lì per rimuovere il semi permanente è appunto questo solvente che sul sito c'era scritto che era davvero estremamente semplice rimuoverlo con questo all'incirca sui 5 minuti e viene via appunto tutto il semi permanente è davvero velocissimo poi mi piace anche il dispenser fatto in questo modo che basta mettere il cotone qui sopra pigiare ed ecco il gioco fatto e poi andare ad avvolgere tutte le varie dita all'interno della io utilizzo la quella la carta quella lì la stagnola come si chiama? si chiama stagnola? si si chiama stagnola poi se ho sbagliato lo scrivo qui in sovraimpressione e adesso vi mostro quello che ho scelto dal sito allora parto con mostrarvi questo qui che è l'olio per le cuticole questo è buonissimo ho preso quello lì alla mandorle sul sito ce ne sono diverse tipologie c'era anche quello a limone, quella a pesca io ho preferito questo qui alla mandorle perché ha un odore pazzesco ed è buonissimo già l'ho applicato qualche volta sulle mani perché sto cercando di non andare a scavare via le cuticole e di non tagliarle e quindi vado ad ammorbidirle con questo poi ho preso come prima il fast bonder che è questo qui il fast bonder è un mediatore di aderenza che non aggredisce e danneggia appunto le unghie naturali questo qui asciuga all'incirca all'aria per 30 secondi e va messo davvero in minima quantità su tutta l'unghia e quindi si inizia appunto con il fast bonder poi una volta asciugato il fast bonder si mette questo qui che è appunto questo è l'universal plus il fast universal plus che è una base e anche un sigillante per lo smalto semi permanente questo qui invece polimerizza in lampada 120 secondi quella all'IoV invece per quanto riguarda la lampada led questa qui per 60 secondi sul sito c'è scritto che ha una tenuta e una lucentezza per oltre ben 3 settimane e quindi ottimo questo prodotto una volta catalizzato ovviamente bisogna rimuovere il film di dispersione appunto come vi dicevo prima con questo qui con il nail cleaner per andare appunto a togliere il film di dispersione e sono davvero curiosa di testarli e poi ovviamente ho preso due smalti semi permanenti questi qui nickel tested questo è il primo che ho scelto è Romeo e Giulietta questo qui è favoloso questo nome anche il colore è spettacolare ed eccolo qua questo è Romeo e Giulietta un rosso bello acceso e questi qui polimerizzano ovviamente in lampada per quanto riguarda quello B 120 secondi e quella led 90 secondi stesso discorso anche di questo vi mostro anche l'altro colore che appunto questo è organza ed è il numero è appunto questo sul tappino sempre se mette a fuoco il cellulare ed è il 9086 vabbè eccolo qui ed è un bellissimo colore neutro ed è una sorta di lilla vedo lilla ovunque insieme anche al celestino per quanto riguarda gli abiti e quindi ho scelto questo secondo colore io non vedo l'ora di testarli di provarli di vederli appunto all'opera e di vedere appunto se sono lucidi e perfetti per tre settimane se volete giù nell'info box vi scrivo anche vi metto anche il link dei vari prodotti così se siete curiosi e andate a curiosare sul sito di Gamax io ovviamente li ringrazio e niente sono stati gentilissimi per avermi mandato anche l'omaggino e niente ragazzi questo era un video diverso ovviamente dal mio solito dalla resina dalle perline spero di mostrarvi nei vari tutorial o nei vari video delle unghiette e delle manine al top un bacio e a presto con nuovi video ciao grazie a tutti